E' stato un parto, una sorta di parto cari amici di Unibet Italia, la Roma ce l'ha fatta, ha preso il suo allenatore, c'è stata la presentazione di Eusebio Di Francesco, in bocca al lupo a lui, ce ne sarà bisogno, una scelta che sicuramente non ha entusiasmato, una piazza che comunque ha dato il benvenuto a casa da qui, aveva spiccato il volo come calciatore, vincendo lo scudetto nel 2001, da comprimario, ma è stata una figura comunque utile di Francesco e ora tornerà ad allenare questa Roma che ha anche fatto partire il suo mercato con l'acquisto di Hector Moreno, messicano capitale, capitano della nazionale messicana in forza Alpesve, a Eindhoven, pagato 5.700.000 euro, adesso è possibile, è probabile la cessione di Rudiger, anche qui non un rinforzo, quindi le premesse non sembrano ottimali, soprattutto perché Pallotta, ha detto la scelta di Francesco, è stata fatta per il bel gioco, per divertirci un po', non ha detto per vincere, ma lui vince se fa lo stadio, e quindi sono giorni caldi, anche su questo fronte la Roma aspetta la votazione per la delibera, naturalmente da sottoporre al parere di congruità della conferenza di servizi in regione, quella forse è veramente la partita più importante, quella che interessa di più. al presidente della Roma c'è un business, ci sono tanti soldi da fare con le cessioni, con lo stadio, speriamo non si perda di vista la competitività di una squadra che senza Spalletti e con di Francesco già sarà chiamata a fare delle cose importanti da subito in Champions League con una rosa da confermare in gran parte nei limiti del possibile, da innervare con dei nuovi acquisti di livello, di spessore per non far sì che le altre rimontino da dietro, un saluto a tutti, speriamo bene, da Dario Pelsani a presto, ciao!